Ciao cara, ho una fame pazzesca, mi mangerei l'avoviglio? Ciao caro, benissimo, sei arrivato giusto in tempo, ho appena finito di preparare un pranzetto da leccarsi i baffi. Davvero? Che cosa hai preparato? Perché non provi ad indovinare? D'accordo, la pizza? No. Le lasagne? No. La bagna cauda? Nemmeno. La pasta al forno? No, ma ci sei quasi vicino. Dai dai, te lo dico io, sei pronto? Sì, ho una fame. Voilà, pasta e fagioli. Pasta e... Fagioli. A pella riscaldata con questo forno elettrico De Longhi, modello EO32852. Cucina alla perfezione cibi di ogni tipo grazie al termostato regolabile da 80 a 220 gradi. È facile da usare grazie alle tre manopole. Questo forno ha ben sette funzioni e sono la cottura ventilata, quella tradizionale, il grill, la gratinatura, il girarrosso per cucinare fino a 4 kg di carne, lo scongelamento e il mantenimento in caldo. Si tratta di un forno elettrico da 32 litri. Il design è molto semplice e le sue dimensioni sono di 53,5 cm di lunghezza, 46,5 cm di profondità e 34,5 cm di altezza. Il tutto per un peso di 16,5 kg. Il diametro interno con bordi arrotondati è di 34 cm realizzato in materiale antiaderente Durastone 2 by De Longhi. Quest'ultimo è il più resistente ai graffi e alle alte temperature rispetto ai normali rivestimenti antiaderenti. Una caratteristica di questo forno è il ThermoShield, cioè un particolare sistema di isolamento che, grazie anche alla porta in doppio vetro, riduce la temperatura e rende il forno più efficiente evitando le dispersioni di calore. Questo forno è dotato di spie luminose che indicano il raggiungimento della temperatura. La luce verde indica che la temperatura impostata è stata raggiunta. Inoltre è presente una luce interna che permette di vedere il cibo durante la cottura. Il timer arriva fino a un massimo di 120 minuti con autospegnimento a fine cottura ed indicatore acustico. Per quanto riguarda la potenza del forno, De Longhi indica per la modalità ventilata 2200 Watt, per la modalità tradizionale 2000 Watt e per il grill 1200 Watt. Il voltaggio vai dai 220 ai 240 Volt. Potete trovare questo forno elettrico De Longhi modello EO32852 su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su qui in basso e se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e seguirci su Instagram. Allora caro, perché non mangi? Dai, buon appetito! Sì, era solo molto calda, ora mangio. Buonissima! Bene, sono contentissima, anche perché ho sbagliato un po' le quantità, quindi ne avremo anche per questa sera. Ma no, io stasera volevo portarti a cena fuori, cara, cara!